Sul discusso tema della proroga delle concessioni dei maniali marittime, il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, ha presentato, dopo mia sollecitazione, un'importante interrogazione al presidente del Consiglio. Lo dichiara il sindaco facente funzioni, Luisa Maiuri, in una nota stampa. Il 30 marzo 2021, nella seduta numero 308, viene richiesto un intervento immediato attraverso il coordinamento dei vari ministeri competenti al fine di portare a compimento le attività amministrative previste ex legge, nell'ambito del riordino della materia dei maniali marittime, per dirimere ogni dubbio circa l'applicazione delle leggi da parte delle pubbliche amministrazioni. Il nostro comune, sottolinea la Maiuri, ha intenzione di prorogare le concessioni dei maniali marittime fino al 31 dicembre 2033, sulla base di quanto previsto dalla legge numero 145 del 2018, disponendo un nuovo termine di scadenza delle stesse con finalità turistico-ricreative. Ringrazio il senatore Iannone per l'impegno profuso, contando in una risposta da parte del presidente Draghi e dei ministri competenti, per poter finalmente avere un chiarimento su un tema che rappresenta per un territorio come il nostro a vocazione turistica un fondamentale tassello per lo sviluppo economico reso ancora più importante in un periodo così difficile per il comparto, conclude il sindaco facente funzioni, Luisa Maiuri.